Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi, seconda parte del video con Tommy lo so, non l'ho caricato venerdì perché ho veramente poco tempo ultimamente le ghiacze con il lavoro sono veramente pieno e dunque non riesco a trovare il tempo per editare a breve dovrei riuscire a riprendere la normale riproduzione sto cercando di portarmi avanti stanno per arrivare dei gran bei video quindi preparatevi dunque mi raccomando lasciate like con i video di iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti superiamo i 90 like anche per questo video dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla infatti ce l'ho ce l'ho wow non vedi eccolo bello doppia siano siano bella siano bello carino carino guarda dietro un po' cialo si siano fin fuori cialo fin de a oh siano mi hanno alzato il piombo da quanto forte tiravano no no dai è bello azzurro che questa ciano non è un buon guido papa ciano apponta ma dai vai vai c'è il brancone guarda 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 non sono niente arrivato sul fondo non sono niente arrivato sul fondo tripletta ho visto e che gli arrivai perché l'arriva la pastura guarda qua l'arriva la pastura guarda ho 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 Oh no, Giano, Giano, passa il palpe e si imbarca alle cascaggio Vai, vai che pesce Urrredi Eccolo qua Oh, ho anch'io Double, più po' 27 Bello uno Guarda qua, guarda l'ultimo Eccolo Eccolo, piscons Eccolo, no, non ho la manetta Butta giù, ve lo accettiamo Tira Oh, che mangiate in caduta Guarda No, no, dopo di zì che non ti girarti Fonking I più In the 90s PIE3 Fonking Tai pastura ciano fa così e testa prima mi tengo doccio l'ecoscandaglio due a correnta da scherio pastura a destra un po verso avanti ancora mongwing in the 90s così lo finiamo ma come barca a me barca stretta non l'hai fatta per pescare te sta male, te sta veramente male oh 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 ciano ii di mongwing qua sotto un paio un paio di mongwing un paio di mongwing non ci sei più ma è da sotto ferma, pasturazione, pesca E l'è il branco, sì. Eh, t'auditomi. Questo sembra tirare occhiare. Eccolo, neanche sul fondo e bam. Guarda che bello. C'hanno qua, it's interesting. Quinto plan. No, qua il plan. C'hanno buttato qua, la giga. No, dai, madonna, levati. Vedi che devi togliere, devi tenerti, lo spazio è libero. Mi ha piantato la canna. Fatti, è qua. Eh, si sta esaurendo il... Questo è bello, mi ha mangiato. Vai, vai, tira su, tira su, viace. Vai, Ciano. È più grosso di oggi, Dio. Cernì. Sì. E questa l'è? Eh, è bello, Cian. Questo poi ha mangiato il giga. Oh, Ciano, 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 Ciano. No, 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 vai. Io ce l'ho bello, io ce l'ho bello, io ce l'ho bello. Ce l'ho bello. Ah. Ah, no, sono tre, però tutti tre buoni. E voi, ah? Ciano. Sì? Questo... Ma come è possibile? Guarda, non so neanche arrivato sul fondo. Dai, dici. Oh, 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 oh. No, dai. Ah. No. Oh, l'ho preso, l'ho preso. Guarda, 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 guarda. Siamo in una fisheries. Cian, Ciano. Come è che so, c'è fa me. Migli, uno di bel, probabilmente. Gli, uno di bel. Eh, tira, tira. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Dai, 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 dai. Dai. Già, no, non te ti diverti, no? Siamo in fishing frenzy. Guarda, neanche calato. Nel pesce in canna. Micro. Però pesce. Eh, ma che balle. No, perché qua, stavolta, la carne è piegata. Come on. This is not a cycle. Grazie a tutti.